ciao volevo farvi vedere oggi queste asciucamani da cucina che ho realizzato di recente allora ho realizzato questo con questo fiore ha fatto l'uncinetto sui toni del rosso poi ho realizzato questo sui toni dell'arancione poi ho realizzato quest'altro sui toni del rosso e del verde sempre con il fiore fatto all'uncinetto poi ho realizzato quest'altro sui toni del rosa e arancione sempre con questo fiore molto carino fatto all'uncinetto poi quest'altro sui toni del multicolor sul rosa questo sfumato multicolor e sul verde sempre con questo fiore qui e questo bocciolo poi ho realizzato questo con questo fiore bianco e verde sempre con questo bocciolo e questo invece sui toni del verde e del blu poi ho realizzato quest'altro sui toni del giallo e del bianco infine ho realizzato questi due questo sui toni con questa trama sul celeste e sul bianco e questi fiori bianchi e gialli sempre con queste foglie verdi sempre il tutto fatto all'uncinetto e poi ho realizzato infine questo sui toni del bianco questa grossa margherita bianca con questa foglia verde per il momento è tutto io e le mie creazioni un po' diverse dal solito vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao